Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sul raccordo Siena-Firenze, possibili disagi per lavori e scambio di carreggiata tra Tavarnelle e San Donato. Sulla statale 1 Aurelia, all'altezza del chilometro 283, corsia di marcia in direzione sud chiusa tra Rosignano e Cecina Nord. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Oversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!